Ciao ragazzi! Allora Questa è una borsa di una vecchia collezione di Patrizia Pepe Il colore è uguale a una mia giacca Quindi me la son presa e me la son presa anche perché Il prezzo originale era questo Il 50% l'ho pagata solo questo Quindi me la son presa Apro così Allora questa è la trocola E questa è per portarla a mano Quindi abbiamo due belle cose Poi qui abbiamo due taschini per mettere chiavi cellulare eccetera E qui abbiamo una zip Quindi non è neanche fatta male Certo Ho trovato di pelliccia sintetica Che però tra l'altro è pure morbida Una bella borsetta Di marca tra l'altro scontata Perché questa era della collezione dell'anno scorso Si vede che nessuna si era cagata E me la son cagata io Visto che ho La borsa di questo colore Che sembra marrone Però in realtà È un borgogno Io questa non la vedevo più da un pezzo Quando l'ho vista ho detto Cacchio Me la devo prendere Assolutamente Bella, 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 bella E adesso me la metto via Ah, l'ho presa da pellizzare Il negozio Che sta all'interno del centro commerciale di Arese È chiamato il centro Al piano superiore Quello a fianco Alla Primark sezione uomo Questo diciamo tanto per intenderci Comunque lì da pellizzare purtroppo Di roba della mia taglia non c'è Però ci sono veramente un sacco di belle cose Veramente belle per vestirsi anche eleganti Per quanto riguarda questo periodo Quindi magari andate da pellizzare A farvi un giretto La roba la pagate Però vi assicuro che la roba è veramente bella E con questo vi saluto Ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima